siamo già partiti con questo video che bello ciao come ti chiami debora sicura sì sicurissima 100% al 100% giriamo la ruota no no ok perfetto allora debora da dove vieni prevalle prevalle provincia di brescia che vicino che pese si trova gavardo aspetta che guardo devo guardare google maps gavardo ok perfetto allora gavardo ti sposi festeggi compleanno divorzi cosa fai mi sposo ok con chi ti sposi marco con marco dimmi subito un pregio e un difetto di marco pregio romantico ok bella la bugia difetto testardo ok questo avviene dal cuore si sede allora io voglio che saluti tutti gli amici di prevalle e devi digli la vita è bella ma la bella vita di più sei pronta vai la vita è bella ma la bella vita di più e di chi è la vita bella mia chi ha fatto il film benigni sicura sì ok altro non chiedermi altro non chiederti dov'è che ti sposi a prevalle sì ok ci sono due posti anche per me mister dave certo ok perfetto allora io vengo a fare intervista a te a tuo marito e lui viene a fare ecco la telecamera va bene perfetto siamo assunti ha giudicato fantastico abbiamo già trovato lavoro che giorno 26 settembre sei libero dave 26 settembre ci siamo liberati tutti e due ci siamo liberatissimi liberatissimi siamo liberati salutiamo gli amicicoli diciamo amicicoli ciao amici amici